635 euro di beneficio medio per 500.000 nuclei. Parte così l'assegno di inclusione. I primi pagamenti il 26 gennaio, più sostanziosi di circa 100 euro rispetto al reddito di cittadinanza. La misura che, in tandem con il supporto per la formazione e il lavoro, va a sostituire definitivamente il reddito di cittadinanza, prevede un assegno base pari a 500 euro per i nuclei con minori, anziani, disabili e soggetti in condizioni di svantaggio, ma poi ci sono le maggiorazioni. Per ottenere l'Adi è necessario un ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, sotto i 9.360 euro. Le verifiche sui requisiti richiesti per accedere alla misura, diversamente da quanto accadeva con il reddito di cittadinanza, avvengono alla fonte, quindi prima di far scattare il semaforo verde alle erogazioni. Chi supererà i controlli vedrà arrivare i soldi direttamente sulla card di poste italiane. Le domande possono essere inoltrate tramite i CAF, i centri di assistenza fiscale che offrono un servizio di prossimità ai cittadini, solo da questo mese. Le esperienze passate, sottolinea il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi, ci dicono che, trattandosi di una prestazione rivolta a nuclei fragili, molti utilizzeranno patronati e CAF per presentare l'istanza, quindi una prima sostanziale valutazione potremo farla solo a fine gennaio. Le domande per l'Adi arrivano soprattutto dalle regioni che accoglievano il maggior numero di beneficiari del reddito di cittadinanza, quindi Campania, Sicilia, Calabria, Lazio e Lombardia.